ma vaffanculo stronzo ma succhia sto gran cazzone sto cazzone devi succhiare ecco che devi succhiare ragazzi se ogni tanto divento volgare è via de pietà però ce sa ma non è volgarità cattiva è alla romana come vi posso dire agonismo di gioco a 2 e 4 grazie mille ragazzi grazie anche quando giocano a calcio non è che si fanno le carezze si dicono sei bravo no però se uno youtuber allora è diseguardativo capito e poi c'è chi fa peggio è però lui è un santo santo santo